il team di goku contro c17 c18 nell'episodio in cui i protagonisti che sono gli alleati di goku decidono di affrontare cyborg si scopre che i cyborg hanno la meglio e si rivelano entrambi nettamente superiore al team di goku tuttavia i cyborg decidono di risparmiarli e di concedere a loro la rivincita informando krill che può dare al suo team un fagiolo magico di balzarra krill però prima che i cyborg decidono di andare via li chiede come mai sono degli esseri crudeli e c17 gli risponde che per loro questo è solo un gioco e che si vogliono divertire